Altra situazione di caos, sebbene per tutt'altre ragioni, questa mattina allo Stadio Tardini c'era l'inizio della campagna abbonamenti alla nuova stagione del Parma Calcio, ma un blocco dei sistemi informatici non dipendente dalla volontà del Parma Calcio ha fatto letteralmente inferocire i tifosi, costretti a lunghe ore di attesa, incolonnati e per di più con un grande caldo. Vediamo. Dopo l'università, nei giorni scorsi, l'informatica miete un'altra vittima. Questa volta ad andare in tilt sono stati i computer del Parma Calcio che avrebbero dovuto rilasciare gli abbonamenti e la tessera del tifoso. I primi supporter della squadra si sono presentati verso le 7 al Tardini per sottoscrivere l'abbonamento alla stagione 2016-2017, ma alle 10, orario previsto di apertura, le porte sono rimaste rigorosamente sbarrate. Con il passare dei minuti, prima e delle ore poi, gli animi si sono un po' surriscaldati, nonostante l'amore per la squadra. Glielo dica, glielo dica proprio che noi veniamo da lontano e siamo qua e non sono bene organizzati. Penso che noi qui abbiamo dimostrato un attaccamento alla società veramente incommabile. Peccato che ci stiano prendendo un po' in giro. Siete una società di direttanti allo sbaraglio? Questa fila qua l'abbiamo fatta anche l'anno scorso e si ripete anche quest'anno, quindi bisogna organizzarsi meglio. Crediamo che il campionato del Parma non inizi come la campagna di abbonamenti, è un augurio. Io sono qua dalle 8 e mezza che aspetto e non si sa se il computer non funziona o no, non lo sappiamo com'è. Poi fra 10 minuti vanno, vedremo, via. Teniamo duro. Da quando siete qua voi? Io dalle 7. E resiste, rimane? Eh, penso di sì, non è detto. In tanti, soprattutto, hanno lamentato la scarsità di informazioni da parte dello staff tecnico. Non abbiamo saputo niente, almeno venissero a dirci qualcosa, in maniera che capiamo se dobbiamo stare qui o se dobbiamo andare a casa. Io mi siedo qua, non vado a casa, vado a prendere un panino e mi metto qua, sto qua fino a stasera. La società si è successivamente scusata attraverso un comunicato stampa, ma soprattutto ha deciso di cancellare la prevista pausa pranzo del personale fra le 13 e le 16, cercando così, con questa non stop, di recuperare i disservizi della mattinata. È chiaro che la gente è arrabbiata e ha ragione e noi ovviamente non possiamo che essere costernati. Nello stesso tempo però vogliamo anche specificare che tutto quello che c'era da fare avevamo provato a farlo. Poi, come si suol dire in questi casi, ci siamo rimasti dentro anche per problemi indipendenti dalla nostra volontà e cerchiamo di fare di tutto per rendere il più agevole possibile nelle prossime ore lo svolgimento dell'inizio della campagna.